Ciao, sono Silvia, gli do il bentornato sul mio canale, ci siamo lasciati settimana scorsa parlando dei comportamenti efficaci per fare un'ottima figura con i recruiter in fase di colloquio conoscitivo, ma per fare un'ottima impressione è fondamentale anche scegliere quelle che io definisco parole strategiche e questo video è dedicato proprio alla comunicazione efficace per entrare subito in empatia con i recruiter. Se volessimo dare una definizione di colloquio la potremmo definire come un vero e proprio incontro tra due professionisti, da una parte abbiamo un professionista della selezione e valutazione delle risorse umane, dall'altro abbiamo il candidato che è un professionista per quanto attiene il proprio settore di appartenenza. Ed è fondamentale tenere a mente queste due cose perché molto spesso, come vi dicevo anche nel video precedente, il candidato si sente talmente sotto pressione che a volte si dimentica in realtà che egli stesso è un professionista, soprattutto se parliamo di un candidato che ha una certa seniority, quindi vende veramente il suo expertise. Proprio di questo vi voglio parlare, di quei profili altamente tecnici, settoriali, di quei profili che hanno sviluppato o un importante background formativo e professionale che devono vendersi come veri e propri professionisti e per fare questo è fondamentale scegliere anche il linguaggio da utilizzare a partire dai cosiddetti verbi forti. Partiamo dal presupposto che nel momento in cui un recruiter pubblica un annuncio di lavoro sta dicendo al mercato interessato, sia ai candidati, che ha un problema. Il candidato dall'altro canto che invia la propria candidatura, invia il proprio curriculum, si propone come la soluzione di quel problema. È fondamentale considerare l'invio della candidatura come un vero e proprio strumento di marketing per arrivare all'azienda. È fondamentale che nel momento in cui facciamo breccia nel cuore del recruiter, quindi vinciamo l'invio della candidatura, vinciamo contro questi temutissimi ADS e finalmente il recruiter ci contatta per un colloquio conoscitivo, sapere quale tipo di linguaggio utilizzare e soprattutto quale linguaggio utilizza l'azienda. È per questo che io dico spesso ai candidati, bisogna preparare il colloquio perché dobbiamo entrare in empatia con il selezionatore. Possiamo farlo solo se andiamo a studiare la pagina web dell'azienda e cerchiamo di capire di cosa parla l'azienda e come parla l'azienda e a chi parla l'azienda. Per esempio, avendo lavorato sempre per oltre 15 anni nel settore alberghiero, io quando inviavo le mie candidature che fossero in italiano o fossero in lingua inglese, i miei curriculum erano sempre strutturati utilizzando il linguaggio settoriale. Questo è fondamentale perché, come vi dicevo, noi ci vendiamo come professionisti e il professionista sa quale terminologia utilizzare. Vi faccio un esempio banalissimo. Una cosa è dire io voglio lavorare nella reception di un hotel. Lo può dire chi? Senza nulla a togliere a chi utilizza questa terminologia. Lo può dire la persona che è appena uscita dalla scuola, dal mondo accademico, sia diplomato che neolavorato. Ma se io vendemi come un professionista, non dirò mai al mio selezionatore voglio lavorare nella reception di un hotel, ma dirò aspiro a fare il front office agent, voglio fare il FOM, quindi posso anche utilizzare degli acronimi. ovviamente dipende sempre dalla persona che ho davanti. Anche la struttura del CV e le varie descrizioni, le varie job description delle mie mansioni lavorative saranno puramente tecniche, quindi saranno piene di quelle parole proprio del gergo turistico alberghiero. E questo perché voglio dimostrare subito al recruiter che io so perfettamente di che cosa lui abbia bisogno e voglio dimostrare al recruiter che io quelle cose le so fare perché voglio pormi come la soluzione al suo problema. Non basta però vendersi come veri e propri professionisti, bisogna, come abbiamo detto all'inizio di questo video, utilizzare un linguaggio strong, utilizzare quelli che vengono considerati verbi forti, di cui in questa grafica vedete, diciamo, un breve riassunto, quelli che vengono maggiormente utilizzati nei curriculum vincenti. Una persona, un candidato che voglia vendersi come professionista e quindi vuole vendersi come colui che porta la soluzione al problema dell'azienda, non parlerà ad esempio di problemi, ma parlerà di anticipare le conseguenze. Ecco, vedete come è sottile la linea per entrare in empatia con il recruiter. Ci sono alcune parole, questo ovviamente rientra un po' nel branco della comunicazione efficace, ci sono alcune parole che per associazioni di idee vengono considerate negative, ci sono altre invece che generano un pensiero positivo. Ed è proprio per questo motivo che vengono considerate strategiche, soprattutto in una fase di colloquio conoscitivo. Parlare di conseguenze, parlare di soluzione e non parlare di problemi, parlare di fatturato, parlare di business, parlare di essere orientato al cliente. Sono tutte soft skills, sono tutte parole strategiche, le stesse che vedete riportate molto spesso anche negli stessi annunci di lavoro e che permettono di entrare in empatia da subito con il selezionatore. Ad esempio, se io mi trovo a fare un colloquio perché devo vendermi come un commerciale, sicuramente alla classica domanda mi dedica i suoi tre punti di forza, sicuramente la prima cosa che mi viene in mente non è l'empatia. Perché un commerciale è uno che deve portare clienti, deve generare fatturato, deve fare business. Quindi sì, l'empatia ce la mettiamo in mezzo ai tre punti di forza perché ce la mettiamo ma la mettiamo come ultima posizione in primo piano sicuramente l'orientamento alle vendite, il business, il fatturato. Quindi la soluzione al problema dell'azienda, l'azienda non sta cercando una persona empatica in quel momento, ma sta cercando una persona che può sviluppare e consolidare un portafoglio clienti. Ecco, mentre vi lascio a schermo la classifica, diciamo così, dei verbi forti che vanno per la maggiore, vi chiedo anche quali potrebbero essere i verbi che potreste utilizzare nel vostro curriculum, ma soprattutto che potreste utilizzare in una comunicazione con il selezionatore per fare un'ottima impressione e convincerlo che siete veramente voi la soluzione al suo problema. Un'altra cosa che non bisogna assolutamente fare, al di là dell'utilizzare i verbi forti, è quello di iniziare una frase, una qualsiasi frase, con qualcosa che crea opposizione. Qui ci sono sempre le cosiddette regole della comunicazione efficace, quindi mai iniziare una frase dicendo, ma purtroppo questa cosa non rientrava nelle mie mansioni, e purtroppo questa cosa non me la facevano fare nell'azienda X. Cercare sempre di fare, di creare frasi tutte al positivo, proprio per dimostrare, per entrare in empatia con il recruiter e dimostrare che voi avete voglia comunque di imparare, quindi anche una cosa che non avete fatto mai, fino all'altro ieri, è qualcosa che comunque vi affascina, siete persone curiose, siete persone intraprendenti e quindi siete comunque pronti a mettervi in gioco. Bene, anche per oggi abbiamo terminato, vi invito a lasciare un like a questo video, se vi è piaciuto ovviamente, seguirmi anche sul mio profilo LinkedIn e a commentare, noi ci vediamo settimana prossima con una nuova tematica per quanto riguarda la ricerca del lavoro, CV efficace e preparazione al colloquio. Ciao!